Musica Si riunisce oggi l'area giochi di Confindustria per calendarizzare e mettere in agenda l'ordine del giorno a sottoporre l'attenzione della Sesto, Comitato Antiriciclaggio e della Commissione Antimafia. L'audizione è in programma per martedì prossimo, 29 marzo. Siamo stati convocati per la prossima settimana dalla bicamerale, commenta Massimo Passamonti, coordinatore dell'area giochi e intrattenimento. Grazie